Benvenuti a questo nuovo video nel quale vi voglio presentare alcune differenze che sussistono nella gestione dei file e delle periferiche fra un sistema operativo Windows e uno basato su Linux. Perché questo? Perché in effetti ci sono parecchie differenze fra i due sistemi nella gestione dei file e delle periferiche e siccome per una questione di numeri, statistica diciamo, è molto più probabile che ci sia un utilizzatore di Windows che decide di passare ad utilizzare un sistema basato su Linux che non proveniente da altri sistemi operativi e quindi a maggior ragione è necessario spiegare almeno per sommi capi a questo ipotetico utilizzatore di Windows o ex utilizzatore di Windows che ha deciso di iniziare ad utilizzare un sistema basato su Linux, quindi è necessario spiegare almeno per sommi capi quali differenze ci sono. Quindi se fino a ieri questo utilizzatore ha potuto gestire e vedere i propri file e le proprie feriferiche in un certo modo, da oggi utilizzando un sistema basato su Linux si vedrà le cose organizzate in un altro modo e secondo me questa è una di quelle cose che magari noi utilizzatori di un sistema basato su Linux da un po' di tempo diamo per scontato. Insomma, i file sono gestiti in questo modo, le cartelle le vediamo in questo modo, le periferiche in quest'altro e per periferiche intendo le parti hardware connessa al PC come può essere una stampante, uno scanner eccetera, un disco esterno. Ecco, dicevo noi lo dobbiamo magari per scontato ma io immagino che per una persona che ha sempre utilizzato Windows tutta la vita non sia per niente scontato trovarsi in un altro mondo e in un altro modo di organizzare le cose. Ecco, allora diciamo che in sostanza, e ne parlo un attimo mostrando una classica immagine delle risorse del computer di Windows, in questo caso è ancora Windows XP, ma poco cambia perché il concetto sotto Windows è sempre quello, quindi se si va in risorse del computer, l'utilizzatore del suo computer vedrà il classico disco C, il disco floppy con lettera disco A, disco D per il DVD, eventuali altre lettere se ci sono unità di rete connesse e eventuali appunto altre periferiche connesse al proprio PC tipo scanner e fotocamere digitale come si vede l'esempio qui e voilà, e si vedono questi oggetti, queste unità che io voglio chiamare genericamente oggetti particolari di un sistema Windows che stanno a rappresentare una specifica periferica. Quindi vedete qui una fotocamera digitale con un'iconcina tipo appunto una fotocamera, una macchina delle fotografie e gli altri sono iconizzati come dischi, in effetti sono dei dischi, poi chi più ne ha più ne metta. Quindi abbiamo una gestione specifica con degli oggetti specifici per ogni tipo di periferica, che siano dischi o altro. Rispettivamente in Windows, questo ovviamente lo sanno praticamente tutti, c'è anche l'esplorazione delle risorse nelle quali troviamo le classiche cartelle con dentro i nostri file sotto documenti e settaggi o documenti in settings, credo si chiami, per esempio la cartella per difetto nella quale vanno i nostri documenti, le nostre immagini, i nostri documenti d'ufficio, i nostri filmati, la nostra musica, tutto quanto va nelle cartelle del sistema di file, normale come altri sistemi operativi. Fin qui più o meno è Windows riassunto, magari neanche tanto bene da parte mia, ma insomma giusto per dare i principi fondamentali. Sottolineo che c'è una netta differenza fra la rappresentazione dei dischi e delle periferiche connesse rispetto all'esplorazione delle cartelle contenenti file nel sistema file, nel file system del PC. Quindi aprendo il disco C con questa icona speciale si aprono appunto tutte le cartelle del nostro disco del PC, però in quanto tale questa icona rappresenta un oggetto speciale che è un disco, sotto Windows c'è questa netta distinzione. Un sistema Linux invece non ha questa distinzione, questo è veramente una differenza fondamentale, in cambio di paradigma dal giorno alla notte, sotto Linux tutto è gestito, tutto è contenuto nell'albero delle cartelle. Vediamo qua un'immagine, quindi non reale dal PC, ma un'immagine che rappresenta, magari la ingrandisco un attimino, scusate un attimo, ingrandiamola un po', ecco qua così è più leggibile. Questo è un esempio schematizzato di un albero di cartelle, di un file system, di un sistema file, di un sistema basato su Linux. Il tutto parte da questa cartella che si chiama root, quindi la radice del tutto, di tutto l'albero delle cartelle parte da questa slash, da questa barra normale e poi tutto si svolge nelle sue sottocartelle, che hanno ognuna, almeno queste standard hanno ognuna, un suo specifico compito, cioè un suo specifico compito o contenuto. Perché dico questo? Perché rispetto a quanto abbiamo visto in Windows prima, sotto Linux non c'è distinzione di ruolo di oggetti fra le periferiche, che possono essere dischi, fotocamere digitali, dischi esterni, disco del PC, scanner, stampanti e le cartelle contenenti i nostri documenti, le immagini, la musica, i documenti d'ufficio eccetera. Non c'è nessuna distinzione, tutto è contenuto in questo albero di cartelle. Per esempio, vedete qui che la cartella bin contiene i programmi. Adesso qui è scritto in inglese, però vi cito io più o meno la traduzione, il concetto del contenuto della cartella. Quindi la cartella bin è dedicata a contenere i programmi eseguibili, quelli che voi avete installato sul vostro sistema. E siccome questo è uno schema e vi voglio sempre mostrare la realtà, ecco qua che ho aperto il mio disco del PC dal quale sto registrando il video e vedete che mi sono posizionato in testa all'albero delle cartelle, proprio in cima in cima, e c'è questa, vedete che ritroviamo quella che abbiamo visto qui, questa slash, questa barra che indica proprio la root, l'inizio di tutto l'albero di cartelle. Qui lo rivediamo rappresentato qui sul titolo del file manager Nautilus, lo vedete qui, file system, proprio più sopra di qui non si può andare, si può andare solo sotto, con sotto cartelle, ma sopra no perché è proprio l'inizio dell'albero. E qui c'è appunto la cartella bin che contiene i programmi installati e eseguibili. Adesso, notamente qui sono tanti, non andiamo a cercare qualche esempio particolare, diciamo che sono proprio gli eseguibili. Avete installato LibreOffice, LibreOffice andrà a finire da qualche parte, qui ho suddiviso in altre cartelle a dipendenza del sistema, comunque il concetto che il bin contiene i file eseguibili. Sbin o system binary contiene i programmi di sistema, quindi eseguibili, ma specifici di Linux del sistema, quindi non installati successivamente da noi. ETC contiene solitamente i file di configurazione dei vari programmi di sistema e vedete che qui, quando io seguo lo schema qui sulla destra, nell'immagine, a sinistra potete vedere che queste cartelle esistono effettivamente nel mio sistema Ubuntu installato, quindi vedete ETC, ETC con varie sottocartelle contenenti a loro volta le varie configurazioni dei vari programmi, vedete qui per esempio appare il Chromium, il browser internet, il Compiz, eccetera eccetera, vedete un po' tutto. Poi, Dev, i device, ecco questo è interessante questa cartella perché è quella che contiene appunto le periferiche, ecco vedete la grossa differenza rispetto a Windows, nel quale le stampanti, ripeto i dischi e tutto quanto sono gestiti con quelli che io chiamo degli oggetti grafici particolari che stanno ad indicare che quello è un disco, quello è una stampante, eccetera eccetera, mentre qui sotto Linux tutto fa parte dell'albero delle cartelle e sotto la cartella device troviamo appunto, vedete citato CPU, dischi, i dischi suddivisi per indicatore tecnico di dischi o per etichetta di disco, ecco in questo caso io ho connesso un disco esterno con una porta USB che si chiama appunto verbatim4 e qui vedete che sotto la cartella device, cioè apparecchi diciamo, apparati hardware connessi al pc, sotto cartella dischi ordinati per etichetta, mi ritrovo il verbatim4, ecco vedete? Poi in altre sottocartelle troviamo più icone, non stiamo a guardare ovviamente tecnicamente cosa vogliono dire o cosa non vogliono dire, però almeno uno volevo farvelo vedere, vedete il concetto che quando ho connesso il disco mi appare qua sotto device, quindi sotto apparecchi connessi al mio pc. E poi avanti così, ci sono anche cartelle più di sistema, più specifici tipo questa, la proc che contiene le informazioni sui processi che stanno funzionando sul pc, var che contiene file variabili nel senso che quando il sistema funziona o i nostri programmi funzionano possono aprire, chiudere, scrivere certi file che sono gestiti solitamente in questa cartella, il tmp è un po' come il ctemp, sotto Windows un classico la cartella ctemp dove vengono depositati dei file temporanei di lavoro del sistema o dei programmi, il corrispondente è tmp e così via. Magari ancora qualcuno, non passiamo proprio tutte le cartelle perché avete capito il concetto, soprattutto la grossa differenza che volevo risottolineare è proprio il device, quindi non c'è differenza a livello grafico, iconografico di oggettistica nell'interfaccia grafica fra un apparecchio connesso al pc e una cartella contenente delle immagini, quindi non c'è nessuna differenza, tutto è contenuto nell'albero qua che parte dalla root, dalla slash qua, tutto è contenuto lì, vedete qui? Fra le quali naturalmente forse la cartella più nota è la home che contiene a sua volta le nostre cartelle utente home, le nostre cartelle personali, quindi su un pc con Linux o Ubuntu nel mio caso potete ovviamente definire da 1 fino a 100 utenti, tutti avranno il loro spazio disco dedicato per i loro dati personali e andranno a finire sotto la home, sotto la home ci sono da 1 più sottocartelle, andiamo a vedere la home, dove, 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 home eccola qua, ora nel mio caso su questo pc mio personale c'è un utente solo definito, vedete che sotto la home c'è una sola sottocartella con il nome utente mio, Nicola in questo caso, ci fossero altri utenti, ci sarebbero altre sottocartelle separate della home per le loro home degli altri utenti con il nome della loro user, corrispondente alla loro user definita al momento di aver definito l'utente, quando si definisce l'utente. E poi avanti così ci sono altre cartelle appunto di sistema, in media, dove quando si connettono per esempio dischi esterni o le cartine, quelle delle macchine fotografiche, le SD card, quelle lì, le cartine di memoria, vengono impostate, montate si dice in inglese mount, montate temporaneamente, dinamicamente sotto la cartella media per esempio, media se si vuol dire in inglese, vedete che il mio disco USB appare anche qui ed è da qui che io posso accedere a quanto c'è contenuto in questo disco, il mio disco esterno USB appare anche sotto media, oltre che sotto i device sopra e così via. Quindi vi ho mostrato per sommi capi, naturalmente senza entrare nei dettagli di ogni cartella, se no si muore perché sono tante le cartelle e con il tempo sono anche aumentate alcune cartelle perché Linux evolve, quindi vedete che sotto il file system potete vedere voi stessi, questo qui è un sistema Ubuntu 12.04, potete vedere quante cartelle ci sono e tutte queste cartelle ognuna hanno un loro ruolo di sistema o per quanto riguarda la home di contenuto dei nostri dati personali. Ecco, questa è una grossa differenza fra Windows e Linux e una grossa differenza della quale sicuramente si accorgono, magari si trovano spiazzati gli utenti nuovi che passano in Linux per la prima volta, non si ritrovano a cercare le loro unità disco, dicono dove è il mio disco C, qui non c'è questo concetto, tutto una sotto cartella. Allora, passiamo dopo questa spiegazione, spero sia stata sufficientemente chiara, però me lo direte voi se sono riuscito a essere chiaro, vediamo un po' in sequenza qualche punto, qualche differenza caratteristica che si può notare a livello utente, ecco perché poi dietro ovviamente tecnicamente Linux e Windows sono due mondi diversi, però poi si entra troppo nel tecnico, ma a livello utente oltre a quello che vi ho appena spiegato guardiamo o riassumiamo velocemente le differenze più eclatanti, ecco. Allora, in Linux non esistono le lettere per definire unità disco, questo l'abbiamo appena visto, quindi sotto Windows si usano le lettere dell'alfabeto per definire i vari dischi, sotto Linux sono semplicemente i dischi montati in una sottocartella e possono essere infiniti, non c'è ovviamente limitazione in questo perché ogni disco si occupa la sua sottocartella nell'albero di cartelle. Ecco, una cosa che mi sono sempre chiesto e alla quale non ho mai trovato risposta finora è ipoteticamente dovessero finire le lettere dell'alfabeto in un sistema Windows, cosa succede? Aggiungo un disco in più? Che lettera si prende? Boh, non lo so, avevo la risposta. In Linux tutto è case sensitive, ecco, il case sensitive è quell'espressione inglese che significa differenziare le lettere maiuscole rispetto alle lettere minuscole. In Windows questo non è previsto, cosa intendo? Intendo che magari con un esempio come sempre è più chiaro, vediamo un po', se io entro nella mia solita cartella così, ecco, questa che è vuota, che forse è più facile, vediamo un po', se io creo una cartella che si chiama pippa, e ne creo un'altra che si chiama pippa, vedete che me la lasciate creare, in realtà facessi la stessa cosa sotto Windows, pippa e pippa, lui mi direbbe guarda che una cartella pippa ce l'hai già. Ecco, questo in Linux e nei sistemi basati su Linux non succede, nel senso che bisogna fare attenzione che anche solo una lettera di differenza, maiuscola o minuscola, per Linux vuol dire oggetto diverso, quindi queste due cartelle per lui, per il sistema, sono assolutamente diverse, come se questa si chiamasse pippa e questa Pluto, siamo noi che a occhio vediamo che pippa e pippa sono molto simili, ma in realtà sono diverse tecnicamente per un sistema Linux, non così per un sistema Windows. Secondo me, ma questa è una mia opinione, è più rigoroso, più completo Linux da questo punto di vista, d'altra parte è vero che chi viene da Windows non è abituato a badare a questo fatto, ogni tanto può trovarsi magari in difficoltà o preso in contropiede dal fatto che di aver magari rinominato un file o una cartella senza troppa attenzione e magari basta una lettera diversa diventano due file invece di uno e su Windows sarebbe stato avvisato, guarda che quel nome lì esiste già, sotto Linux no e diventano due file separati per dire, ecco, solo per fare un esempio. Però se si entra in questa logica di fare attenzione a scrivere come si deve, nel senso di seguire, che ne so, un nome maiuscolo o minuscolo, se fa piacere scrivere maiuscolo o minuscolo, magari scrivere tutto maiuscolo, tutto minuscolo, se si prendono un po' queste regole non dà per niente fastidio, anzi, avere questa differenziazione tra maiuscolo e minuscolo. secondo me, anzi, io in tutti gli anni che uso Linux non mi ha mai pesato per nulla. Posso capire che provenendo da un sistema come Windows che se ne frega del maiuscolo e minuscolo, a volte può dar fastidio, almeno all'inizio, finché non si è presa l'abitudine di essere rigorosi e ricordarsi che maiuscolo è diverso da minuscolo, una lettera maiuscola è diversa da una lettera minuscola, tecnicamente parlando. Poi, i percorsi in Linux usano la barra normale, cosa intendo per percorsi? Se guardiamo qua, ecco, il percorso, cioè il path, il percorso che serve andando di sottocartella in sottocartella per arrivare a una certa cartella o a un certo file, in Linux viene scritto, come lo vedete qui, con la barra, la slash normale, quella inclinata verso destra. quindi quella, tra virgolette, più facile da scrivere con la tastiera perché praticamente è il diviso. Ecco, in Windows, come ben sappiamo, in realtà si usa la back slash, ovvero la barra rovesciata, quella inclinata verso sinistra, che è un po' più scomoda, almeno sulle nostre tastiere, tra l'altro, da scrivere, però tant'è. Un'altra differenza, tra virgolette, scusate il gioco di parole, non indifferente, è proprio questa perché chi è abituato a Windows magari si mette a scrivere con la back slash, con la barra rovesciata e non si accorge che per Linux non è valido quel percorso, bisogna scriverlo con la barra normale, quindi ricordatevi, forse associate il simbolo del diviso, della divisione sulla tastiera con la barra per i percorsi, per i path. Ecco, vi ho mostrato anche questo. Poi, i sistemi di gestione dei file in Linux non richiedono praticamente mai una defraimentazione, ecco, questo più che una differenza proprio visiva, grafica, come quella che vi ho appena mostrato un attimo fa, questa è una differenza della quale ci si accorge a livello pratico, durante l'uso, cioè io da quando ho iniziato a usare Linux, quasi otto anni fa, non ho mai defraimentato e non ho mai avuto bisogno di defraimentare un disco, mentre sotto Windows, come sappiamo, tristemente, è necessario ogni tanto defraimentare il disco, altrimenti le prestazioni del sistema diminuiscono parecchio e questa defraimentazione, a dipendenza della grandezza del disco, può anche impiegare delle ore, però il succo sta che in Linux è gestito, il file system di Linux sono gestiti in un modo tale che non implicano la defraimentazione. E voilà, questo in sé ha poco a che fare con l'organizzazione grafica delle cartelle, rispetto all'unità disco, eccetera, ma in sé, indirettamente, c'è implicitamente anche questo vantaggio nei sistemi Linux della defraimentazione assente. Poi, ecco, la gestione dei permessi d'accesso, anche qui, forse a livello utente è meno sensibile la cosa, meno necessaria per un uso quotidiano, però chiaramente, essendo gestito tutto in un albero di cartelle, come vediamo qua, ed essendo anche le unità disco, le fotocamere digitali, volevo dire, tutte le periferiche possibili, comunque gestite come fossero una cartella, ovviamente, di conseguenza, anche la gestione dei permessi d'accesso a queste periferiche, a questi dischi, alle cartelle, alle sottocartelle, è tutto uniforme, quindi la gestione della sicurezza è sempre gestita allo stesso modo e con le stesse modalità, perché appunto si lavora sempre su questo albero di cartelle, rispetto a Windows, dove la gestione della sicurezza è comunque gestita in un modo particolare e magari differenziato per tipo di periferica, non so, le stampanti sono gestite in un modo, i dischi in un altro, eccetera, eccetera, ecco, non voglio entrare anche qui troppo in dettaglio, anche perché non è neanche poi esattamente il mio campo, quindi non è che sono l'esperto di turno della sicurezza di qua e di là, però chiaramente questa è solo una deduzione logica, essendo gestito tutto in modo uniforme, uniforme sarà anche la gestione della sicurezza. Poi l'area di swap, ovvero quell'area disco, quello spazio disco che viene riservato per depositare oggetti o programmi o qualsiasi cosa che hanno bisogno di programmi, che non sta più nella memoria RAM, nella memoria viva, viene temporaneamente depositato in un'area chiamata di swap. Ecco, su un PC Windows sapete che l'area di swap è un semplice file depositato sul disco C, archiviato sul disco C, quindi è un file che viene scritto, letto, scritto magari anche numerose volte e sapete bene, usando Windows e avendo magari una memoria un po' scarsa, quanto è attivo il disco C. Quando voi lavorate sul vostro PC con Windows, spesso il disco è sempre in scrittura o lettura continuamente, proprio perché magari la vostra memoria non è sufficiente, l'area di swap, quindi il file di swap depositato sul disco C viene sollecitato molto spesso, il disco continua ad andare. Ecco, in Linux la cosa è gestita, diciamo il concetto è sempre quello, c'è uno spazio disco dedicato, ma in Linux è gestito diversamente, cioè l'area di swap non è un file, è una partizione del disco dedicata, con una speciale gestione di file ottimizzata per quel compito. Quando voi installate un sistema Linux, sia Ubuntu per esempio, il wizard, l'assistente di installazione ci pensa già lui a riservare quest'area di swap e a crearla per conto vostro, quindi non è una cosa complicata perché viene fatta automaticamente. Ecco, la differenza è che non è un semplice file, ma è proprio una parte di disco riservata a quello, sotto i sistemi Linux. Ecco, un'altra cosa particolare, che forse non è nota a tutte e nemmeno questa, è che l'estensione dei file è fondamentale in Windows, mentre non lo è in Linux. Estensione dei file intendo un .doc, .png per un'immagine, se tolgo l'estensione il sistema Windows non lo riconosce più, mi dice che è un file di tipo sconosciuto, devo rimettergli l'estensione per farglielo riconoscere di nuovo. In Linux invece il tipo di file è stabilito dall'interno del file, nell'intestazione, cioè nei primi byte, nelle prime bit, byte, informazioni di qualsiasi file è solitamente specificato cos'è questo file. È un documento Word, è un'immagine png, un'immagine jpg e un file audio mp3 eccetera eccetera. Ecco, Linux va lì, accede al file, dice, ah ok, questo è un file audio per esempio, mentre Windows quanto pare non lo fa e tuttora non lo fa, ha bisogno dell'estensione per stabilire che tipo di file è. ecco, questo si può anche vedere in pratica, vediamo un po' con un'immagine, un'immagine qualsiasi, ecco vedete questa qua che si chiama Alien Adduction Wallpaper JPG, io posso benissimo togliere l'estensione che rimane un'immagine, vedete, mi si apre tranquillamente, è sempre un'immagine jpg in questo caso, jpeg e se guardiamo anche le proprietà, vediamo un po', vedete, il tipo rimane jpeg anche se ho tolto l'estensione. Se provate questa cosa sotto Windows, si trasformerà in un file sconosciuto. Ecco, allora ci si può chiedere a cosa serve l'estensione sotto Linux se non è indispensabile. Beh, diciamo che programmi per esempio come Gimp, per il famoso programma Simil Photoshop per ambienti Linux, sfruttano l'estensione per salvare l'immagine che stiamo creando in un certo formato, quindi se noi vogliamo salvare un'immagine e ci mettiamo .jpg, lui lo salverà come jpg, cioè praticamente l'estensione in Linux viene sfruttata come informazione aggiuntiva per far prendere certe decisioni i programmi. Se io voglio salvarmi PNG, un'immagine in Gimp, gli darò il mio nome, .png e Gimp automaticamente me lo salva in quel formato. Quindi diciamo che l'estensione è una facilitazione, un'informazione in più che in Linux viene usata per rendere più confortevole l'uso di certi programmi, ma non è fondamentale per riconoscere il tipo di file. Sia Linux che Windows prevedono l'opzione dei file nascosti, ecco in Linux un file diventa nascosto quando si antepone al nome del file un puntino, ecco io ho usato lo shortcut, la scorciatoia da tastiera CTRL più H per mostrare i file nascosti o le cartelle nascoste e vedete che sono apparse un bel po' di cartelle nella mia home con un puntino davanti, ecco questo puntino vuol dire nei sistemi Linux questa cartella rispettivamente a questo file sono nascoste, quindi non sono normalmente visibili, bisogna fare qualcosa per vederli. Nel nostro caso di Nautilus è CTRL H che mostra, rispettivamente nasconde i file e le cartelle nascoste. Anche qui è una questione puramente sintattica di scrittura, basta anteporre un puntino e si nasconde, in Windows invece dobbiamo entrare nelle proprietà di un file per rendere un nascosto, c'è un check, un'opzione per dire questo file deve essere nascosto, quindi è una cosa un po' particolare anche in Windows, gestita diversamente. Quindi ricordatevi se da Windows siete passati a un sistema Linux, se volete assicurarvi che in una certa cartella non ci siano dei file che in questo momento non state vedendo, usate la scorciatoia CTRL H oppure visualizza, mostra file nascosti, vedete CTRL più H e vi mostrerà se ci sono dei file o delle cartelle nascosti. Rispettivamente se voi volete creare un file non visibile normalmente basta che anteponete il puntino come ho appena detto. Poi in Linux tutti i dati di un utente sono ordinatamente archiviati nella sua cartella home, in Windows i confini sono più labili. Ecco, in un sistema Windows voi potete salvare i vostri file, i vostri documenti, gli Excel, i work, tutto quello che volete, per documenti intendo qualsiasi cosa, immagini, musica. Avete delle cartelle dedicate, ovviamente, documenti, musica, immagini, eccetera, però non siete, come dire, obbligati a rispettare questo ordine. Voi potete mettere da qualsiasi parte sul vostro disco CI i vostri documenti. Potete salvarli in C direttamente, in C, addirittura anche in Ctemp se proprio volete. Nessuno vi proibisce di salvare dove volete i file. Ecco. In Linux, invece, il vostro spazio utente personale è nella vostra home. Qui sono nella mia home e questo è il mio spazio disco dedicato. Ci fossero altri utenti sul mio PC, avrebbero il loro spazio, quello che ho già detto all'inizio del video. Ecco, e ordinatamente archiviati nella sua cartella home intendo che quando poi ci toccherà fare un backup, cioè un salvataggio dei nostri dati, sottolineo siamo avvantaggiati perché sappiamo che i nostri dati personali sono comunque contenuti in questa home. Al di fuori, nelle cartelle di sistema o in altre parti del disco, con la nostra user normale di utilizzo, quindi non amministrativa, non abbiamo diritto di scrivere, quindi siamo confinati nella nostra home. Fare un backup, un salvataggio dati, quindi è facile. Entriamo nella nostra home e salviamo queste cartelle, abbiamo salvato tutti i nostri dati. Per Windows è decisamente più complicato per un sistema Windows, perché non è per niente garantito che l'utente di turno, l'utilizzatore di turno è stato rigoroso, ordinato e si è salvato i suoi dati solo in determinate cartelle. Chi lo sa? I dati possono essere da qualsiasi parte, addirittura nella cartella programmi per dire posso avere un mio documento. Non me lo proibisce nessuno e questo è un gran casino, soprattutto per salvare i dati e essere sicuri di averli salvati tutti, ma anche per ripristinarli i dati. Vanno dati da tutte le parti ovviamente, se sono stati posizionati da tutte le parti. Mentre in Linux è molto più rigorosa, molto più ordinata la cosa, molto più chiara io trovo. Ecco. A mio modo di vedere queste sono alcune, sono alcune delle differenze più evidenti a livello utente, come dicevo quando ho iniziato qua a parlare di questo argomento. Ciò che un utente Windows passando a Linux si trova come primo impatto, sono un po' queste cose da sapere, da tenere presente come differenza rispetto al sistema che usava in precedenza, cioè in questo caso stiamo parlando di Windows. secco. Qui ho messo, ho raccolto alcuni link interessanti come ulteriore approfondimento se vi interessa e ve lo lascio nel commento del video. Termino qui e vi ringrazio come sempre per l'attenzione, per aver seguito spero anche questo video. Un saluto, alla prossima, ciao ciao.